Quando Silvia, Davide, i ragazzi dello staff di TEDxBari, ai quali faccio i migliori auguri per questa prima edizione, mi hanno proposto di parlare di resilienze e mafia, in un primo momento ho pensato, ma chiedere a uno che ha fatto antimafia e che ha fondato un movimento giovanile antimafia di parlare di resilienza in questo campo, sarebbe come aspettarsi che Dracula potesse diventare presidente dell'Avis o che Totorina, presidente della mia associazione al mio posto e ci ho riflettuto parecchio, vi confesso che ero molto perplesso su questa cosa, cercavo di capire, di entrare dentro questa parola resilienza e me la sono ripetuta tanti giorni, fino a quando non ho capito che effettivamente se si è data questa parola e non un'altra, perché pensare resilienza a me evoca tante altre parole positive, tante altre cose positive tipo la speranza, la crescita, il rinnovamento, invece cosa può succedere in un ambiente come quello della criminalità organizzata? Cosa può succedere in un ambiente dove la morte regna sovrana, dove la vita è l'eccezione, dove il sacrificio è la regola e dove la felicità è davvero un qualcosa che non potrai mai raggiungere e alla quale non potrai mai aspirare? Ebbene c'è un senso, c'è un senso perché dentro la parola resilienza c'è il concetto stesso del relativismo, tutto è relativo, tutto è relativo in campo di resilienza, si mescolano le carte, non capisci più chi è la guardia e chi è il lato, proprio perché non hai i parametri, non hai, per utilizzare un gergo informatico, il codec per leggere questi files, files che sono mutevoli, cambiano ogni giorno e appunto si contaminano a vicenda. Ebbene, oggi parliamo di resilienze negative. Nicola diceva, il titolo di questo mio speech doveva essere The Dark Side of Resilience. Io mi sono permesso una piccola licenza, come vedete anche in grafica ho voluto riflettere queste due parole, sono molto simili, sono anti, un è Resilience, l'altro è Resistence, Resistance. E quindi vi racconterò queste storie, vedrete come sono molto ambigue, ambigue nel vero senso del termine, non si capisce dove è il bene e dove è il male, chi è la vittima e chi è il carnefice. Paolo Rosario De Stefano, vedete sorridente, così di primo acchitto non possiamo sapere chi è questo signore. Eppure proviamo un attimo ad aprire, diciamo, l'ottica di questa fotografia. 39 anni, vedete come si abbraccia con gli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria che lo hanno appena tratto in arresto dopo quattro anni che lo inseguivano. Lui è il capo di un clan dei De Stefano, persona molto intelligente, affabile, inserito in quella cosiddetta borghesia mafiosa regina, che per anni ha fatto sì che l'andrangheta potesse diventare quella mafia che oggi può essere a tutto titolo la mafia più forte del mondo. Perché non è una mafia? Perché è un'organizzazione criminale nel puro senso del termine che vive di un solido legame col territorio perché esprime nel bene e nel male anche le energie interne a quello stesso territorio. Prende ciò che di male c'è e lo rende ancora più malvagio. Prende ciò che di buono c'è e lo conforma ad essa. Vedete, è stato arrestato nel 2009, era tra i tenta latitanti più pericolosi d'Italia, condannato al 41 bis, scarcerato dopo solo sei anni per meriti accademici. Il dottor Paolo De Stefano, da un mese, è un laureato cum laude in giurisprudenza, è stato scarcerato dopo solo sei anni di detenzione. Beh, potrebbe essere un buon esempio di resilienza. Pentimento forse, chi lo sa? Di fronte a Dio non lo sappiamo, di fronte agli uomini certo che no perché non è diventato collaboratore di giustizia, ma ha pagato, come si dice in gergo tecnico, il suo prezzo con lo Stato. Ha scontato la sua pena. Filippo Ceravolo. Filippo Ceravolo, 19 anni, studente. Una sera rientrava a casa con un ragazzo che gli stava dando semplicemente un passaggio. Lui, Filippo, figlio di un venditore ambulante di Soriano Calabro, un piccolo paese che sta inerpicato sulle montagne del Vibonese, nella zona delle Serre, lì dove ci sono i monaci certosini, che stanno appunto nella certosa di Serra San Bruno. E Soriano Calabro è un paese lì vicino. Chiede un passaggio a un giovane compaesano. Il killer sbaglia e uccide Filippo. Il vero obiettivo di quella esecuzione era quell'altro ragazzo. Fino ancora ad oggi non c'è nessun colpevole e ai funerali di questo giovane onesto figlio di un venditore ambulante c'era soltanto una corona dei fiori dei colleghi di suo papà. Suo papà che oggi lotta nel nome di un figlio che è morto per sbaglio solo perché si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Anna Frucci. Lei ha una storia terribile. E secondo me è la resilienza fatta persona. Questo che vedete è suo figlio, un giovane ex seminarista di Filadelfia. C'è questa cosa strana, vedete, al sud ogni tanto ci danno dei nomi di città che sembrano da altre parti. Abbiamo Filadelfia, però, e non è la Filadelfia statunitense, ma sta in provincia di Vibbo, Valencia. Questo ex seminarista è sparito nel 2006. Io ero da poco tempo insieme ad altri ragazzi impegnato in quello che oggi si chiama ammazzateci tutti e conosco questa mamma che lottava per cercare di capire perché a suo figlio non avessero dato neanche la possibilità, l'onore di poter avere una sepoltura. Sono quei casi che noi chiamiamo in gergo lupare bianche. Non si sa che ambienti magari frequentasse questo ragazzo. Si dice che si è entrato magari in un meccanismo che lo ha purtroppo portato ad avere una condanna scritta sulla propria testa, ma hanno condannato questa mamma a non poter avere il cadavere del figlio e di poter portarci un fiore. Il fratello di questo ragazzo, Christian Galati, ha cercato in tanti modi di sapere come andassero le cose per suo fratello, come fossero andate davvero le cose, che cosa ci fosse dietro. Lo contattano sul messenger e gli scrivono, sai forse sappiamo qualcosa sul tuo fratello, tre anni dopo, era il 2009. All'inizio lui non ci crede. Qualche giorno dopo con un'altra scusa lo contattano altre persone fingendosi una ragazza. Lo invitano ad andare in un posto, sulle montagne lì vicino, gli massacrano la testa a martellate e gli danno fuoco vivo. Dopo due mesi di agonia è morto qui a Bari, in ospedale, e quella mamma oggi piange due figli di una resilienza molto, molto, molto strana. Questo è un ragazzo di 24 anni, questo è il suo profilo Facebook, è un elettrauto, un lavoratore onesto. Entra in contatto con una ragazza che non rivela il suo nome e che pare non avesse detto di essere sposata. Scompare il 23 febbraio del 2012, scompare non da Gioia Tauro ma da Melicucco, che è un paese che sta a quattro chilometri dal mio, che è Polistena, e dove appunto la protagonista di questo caso di resilienza è Simona Napoli. Lui era a casa di questa ragazza e non ha mai più fatto ritorno a casa a Gioia Tauro perché, come racconterà Simona, il padre, il fratello e un parente lo hanno ucciso. Simona Napoli denuncia la sua famiglia, contribuisce con il suo atto di estremo coraggio a far ritrovare il corpo, perché poi hanno confessato dove era stato nascosto il corpo di Fabrizio Pioli. E cosa fa poco tempo dopo? Resilienza. Ha rinunciato al programma di protezione ed è ritornato a casa col marito. Vedete un po'. Ho provato a pensare a quali potessero essere gli elementi di congiunzione per provare a teorizzare una sorta di resilienza mafiosa. Perché tra tutte queste storie, Simona, Cristian e Valentino Galati, il ragazzo di Soriano Calabro, Ceravolo, e il nostro dottore boss di Reggio Calabria, De Stefano, ci sono degli elementi comuni. Il primo è la colpa. Colpevole ci diventi o ci nasci. In una famiglia mafiosa spesso ci nasci e poi lo sei anche. Perché continui, non vuoi cadere lontano dall'albero, quindi continui per una sorta di logica della natura a perpetrare quello che ti hanno insegnato a fare sin da quando eri bambino nella culla. Al tempo stesso è quella stessa colpa che diventa senso di colpa che spesso ti può spingere invece a reagire, a darti forza nel momento in cui hai toccato il punto più basso, nel momento in cui i tuoi cari hanno toccato il punto più basso, perdendo addirittura la vita, a reagire, a reagire. Il secondo elemento è l'onore. Vedete, onore è secondo me una parola che i mafiosi hanno sottratto al vocabolario degli onesti. Noi siamo persone d'onore, noi siamo uomini e donne d'onore, non i mafiosi. Però abbiamo questa cosa che ci accomuna. Noi abbiamo l'onore di appartenere a delle terre meravigliose, il sud, io vengo dalla Calabria, qui siamo in Puglia, ieri ero in Sicilia. E l'onore è un qualcosa che nel loro linguaggio è un bene supremo, viene prima ancora della famiglia che è il terzo elemento. Quando questi tre elementi si mescolano, colpa, onore e famiglia, sia nel bene sia nel male, avviene la resilienza. Questa è una formula un po' azzardata, vedete, pensate, colpa, onore e famiglia. Sono tre elementi che tra di loro potrebbero significare sicuramente molto più male che bene, però spesso e volentieri sono quelle cose che spingono una mamma a lottare per sapere qual è la verità, che fine ha fatto suo figlio, il fratello che viene contattato sul Messenger e che cerca di farsi verità e giustizia da solo perché purtroppo lo Stato non arriva. Perché purtroppo lo Stato non arriva. La colpa, la colpa di essere nato in una famiglia mafiosa, di essere stato arrestato anche, però devo ritenere la colpa perché se ha scontato sei anni di carcere, ha pagato il suo prezzo con la giustizia e allora anche il dottor Paolo Rosario De Stefano ha solo la colpa di essere nato in una famiglia mafiosa. È stato già rieducato, sono bastati sei anni. Io sinceramente, visto che ne capisce, adesso spererei che contribuisca in qualche modo a far luce su quello che sta succedendo a Reggio Calabria, che possa dare Paolo De Stefano anche una spiegazione a quella stagione dove sono morte mille persone, una guerra di mafia che negli anni 90 è culminata poi con l'uccisione di un giudice che era il giudice Antonino Scopelliti e che era colui il quale doveva affrontare la pubblica accusa in Cassazione nel maxiprocesso contro Cosa Nostra, il processo di Falcone e Borsellino, il pool antimafia di Palermo, di Caponnetto, di Chinnici. L'onore, l'onore di Martino Ceravolo, il papà di Filippo, io l'ho conosciuto Martino, è una persona umile, eccezionale. Le prime volte mi diceva, sai Aldo qual è il problema? Che io da quando è morto mio figlio non vivo più ovviamente, perché nella legge della natura i figli devono sotterrare i genitori, non i genitori figli. Mio figlio aveva 19 anni, era mio figlio maschio, mia figlia non vive più, la sorella più piccola, mia moglie non vive più, bevo, mi ha confessato anche questa cosa, ma sto smettendo. È quello l'onore, è quello l'onore di lottare contro una legge stupida che va purtroppo a colpire due volte una famiglia che già purtroppo non entrandoci nulla con la mafia purtroppo viene condannata due volte, perché per poter essere riconosciuto vittima di mafia, Filippo Geravolo ci sono voluti tre anni, per quale motivo? Perché c'è una legge troppo scrupolosa, che è quella appunto che regolamenta questo settore, che è quello delle vittime di mafia, per i quali fino al quarto grado di parentela tu non puoi beneficiare di questo fondo se hai appunto fino al quarto grado di parentela dei parenti mafiosi che sono coinvolti in organizzazioni criminali. Io vi dico che io, che faccio antimafia, che la faccio da dieci anni, evito di andare ormai ai matrimoni dei miei cugini di terzo grado solo per il timore di poter essere fotografato dal rosso dei carabinieri e di finire in un'informativa della DDA, di Reggio Calabria piuttosto che di Palmi, perché anche io ho i parenti mafiosi, perché ce li abbiamo tutti i parenti mafiosi, ma ciascuno di noi decide come vivere, ciascuno di noi decide come vivere. Sei ovviamente fortunato se nasci in una famiglia come la mia, come quella di Silvia, che ho visto a tredici anni entrare timidamente in un forum online che era il forum di Ammazzateci Tutti e che oggi è qui tra i ragazzi dello staff. Però se nasci nella famiglia sbagliata, tu cosa puoi fare? Ecco, puoi cercare di capire perché e puoi entrare in contatto con delle realtà tipo la nostra, tipo Ammazzateci Tutti. Puoi cercare di stare dalla parte dello Stato nonostante non convenga stare dalla parte dello Stato. Lo dico con rassegnazione, dopo dieci anni di impegno. Quando sei minacciato al telefono, la notte ti arrivano le telefonate, parlo di me, vai a fare le tue denunce, paghi un avvocato, affronti un processo e quando arrivi di fronte al giudice, il giudice ti fa, eh ma pecora, lei da quanto tempo era che faceva antimafia, così come la chiamate voi? Questo succede davvero, lo sto rivelando per la prima volta io per rispetto nei confronti della giustizia, che per me è sacra, non l'avevo mai detto. Ho detto io, giudice, e al tempo era il 2010, cinque anni, e come pecora, in cinque anni dovrebbe averci fatto il callo a queste cose? Ricevere una telefonata la notte? No giudice, io ho denunciato perché erano diverse, c'erano persone che chiamavano con un accento sconosciuto e chiamavano alle tre di notte, sa non è normale, dicono che vengono a casa e ti ammazzano, e io faccio una denuncia da buon cittadino, non penso che abbia fatto qualcosa contro il dovere di ogni cittadino italiano, ma conosco magistrati che sono sotto scorta, loro sì che sono in pericolo, lei queste cose, quando gliele annunciano mica gliele fanno, e poi perché ha risposto con un sms? Perché i signori che hanno minacciato hanno sbagliato, forse erano ubriachi questi ragazzi che poi ho scoperto chi fossero, uno aveva anche precedenti penali, forse hanno sbagliato, dice perché mi è arrivato un messaggio con il numero scoperto, quindi non era anonimo, e io ho mandato un messaggio e sono stato resiliente a modo mio, caro coniglio se non hai gli attributi per venirmi ad ammazzare davvero, dimmi dove stai perché vengo e ti ammazzo io prima. Bene, per quella cosa, per quell'sms i due signori che mi minacciavano sono stati assolti, perché io non ero preoccupato, perché le minacce che avevo ricevuto di notte sul mio cellulare, sbariate volte, non destavano in me preoccupazione, non mi devo preoccupare. Ciascuno giudica bene ciò che conosce, e solo di questo è buon giudice. Bene, io dieci anni dopo ammazzateci tutti, il 19 ottobre del 2005, questa è la nostra prima apparizione pubblica, vi posso dire che se le cose vanno in questi termini, e anche se oggi ho provato a parlare di resilienze negative, e forse anche io non conosco l'andrangheta. Grazie.